Il giorno e la storia. Oggi è il 16 febbraio. 1907. Muore Giosuè Carducci. 1987. Si apre il processo contro John de Mianuc. 2005. Entra in vigore il protocollo di Chioto. Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino. Oggi parlo di genio e sregolatezza. John McAvoy. Grazie a tutti.